Sono stati ben 17.000 i visitatori provenienti da oltre 40 nazioni nel mondo che hanno partecipato alla ventesima edizione dei BMW Motorrad Days, svoltasi il 2 e 3 luglio scorsi a Berlino. Una festa di grande successo, all'insegna della passione, durante la quale l'intera gamma di prodotti era disponibile per i tour negli affascinanti soborghi della capitale tedesca, ma non sono mancate sessioni di prova senza patente e sessioni di enduro. Non solo, durante il weekend si sono susseguite esibizioni di street bike stunt, di trial, di FMX e gli amanti delle corse hanno potuto vedere i piloti del BMW Motorrad World Superbike e i membri del BMW Motorrad World Endurance Team, mentre per i giovani biker di domani, nell'area Kids è stato allestito un corso di moto specifico per i bambini. I BMW Motorrad Days sono da tempo considerati un evento imperdibile e occupano un posto fisso nel calendario di ogni motociclista.